Voglio rivolgere a tutti i cittadini cavesi, tutti i cittadini che ascolteranno questo video, i miei più sinceri auguri di Buon Natale e di un felice anno 2019, ispirato ai sentimenti di affetto, di gratitudine e di amicizia da parte mia a tutti i cittadini cavesi ed un pensiero particolare rivolto da parte di tutti quanti noi alle persone che anche questo Natale vivranno in una condizione di malattia o di disagio economico per mancanza di lavoro, mancanza di casa, i problemi che ancora esistono nella nostra città ed è soprattutto a loro che va, ripeto, il mio pensiero e gli auguri più sinceri di Buon Natale e del felice anno nuovo. Un saluto poi ed un augurio a tutti i cittadini cavesi per poter vivere queste giornate di festa in famiglia, in serenità, cercando di recuperare quei momenti di tensione che si sono accumulati durante tutto l'anno, i tanti problemi che ci affliccono. Cerchiamo per queste giornate di metterci un po' tutto alle spalle, di vivere con la nostra famiglia, con i nostri amici, con le persone che ci sono care queste giornate. È trascorso un altro anno, Cava la stiamo portando avanti con tutto l'impegno, la passione, con tutte le nostre energie in questi tempi così difficili che stiamo attraversando, ma sono fiducioso che, insomma, il futuro davanti a noi è un futuro positivo, ricco di soddisfazione per una nostra Cava dei Tirreni che sta crescendo ed è diventata una città importante, ancora più importante in tutta la nostra regione. Tanti auguri, Buon Natale e Buon Anno 2019!